Il PDL sta cercando di migliorare il testo, in commissione è stato fatto un discreto lavoro che ha portato alla eliminazione della definizione di identità di genere. Questo certamente aiuta, anche se non ancora in maniera definitiva, il voto sul provvedimento. Io ho posto una questione importante, cioè di non appesantire i reati d'opinione perché la libertà di espressione è garantita dalla nostra Costituzione. Se attraverso un emendamento si riuscirà a risolvere anche questo punto, evitando, come è accaduto in commissione, l'utilizzo anche dell'aggravante oltre al reato di omofobia, credo che il provvedimento potrebbe raccogliere un consenso ampio. Nessun rischio di spaccatura nel PDL? Il PDL è assolutamente normale che su un tema etico esprima posizioni diverse, ma il PDL è granitico nel sostegno al governo.